Ferite non curate opportunamente, lenzuola piene di feci. Il consigliere regionale Fabiano Amati in una appassionata conferenza stampa chiede già al governatore Emiliano di appellarsi al Consiglio di Stato. Di certo non c'è alcun dubbio che la Fondazione San Raffaele, che gestisce il centro di riabilitazione di Celi e Messapica, conteso via legge con la stessa Regione Puglia, abbia portato a casa una importante vittoria giudiziaria. Il Tardilecce, accogliendo le richieste della Fondazione, ha per ora bocciato il piano emergenziale e assistenziale prodotto dall'Asl di Brindisi, che secondo i giudici non appare idoneo ad assicurare sul piano concreto l'immediata e piena operatività del centro di riabilitazione. Insomma, resta tutto così com'è, l'eventuale passaggio da privato a pubblico è rimandato al prossimo aprile, quando i giudici amministrativi entreranno nel merito. Tuona in conferenza stampa Fabiano Amati, primo firmatario di una legge rimasta sospesa e inapplicata. Non mancano le critiche al Tribunale e ancora una volta alla gestione della Fondazione, con accuse pesanti per quanto più volte respinte. Inoltre il Tard raggiunge pure nella sua ordinanza, perché si pongono il problema morale, aggiungono, però mi raccomando voi dalla Fondazione Raffaele fate i bravi, assicurate gli standard, i requisiti organizzativi. Come per dire, sì abbiamo visto che il Dipartimento di Prevenzione ha detto che fate un po' cilecca, però fate i bravi, c'è un monito morale, io non ho mai visto una cosa del genere. È un'ordinanza vergognosa. Ora la cosa da fare è impugnare prontamente dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento, perché a quest'ora lì ci sono malati che, a dire del Dipartimento di Prevenzione, non hanno l'assistenza che in realtà meriterebbero.